La Bazzia del Goleto, la splendida location del primo appuntamento della terza edizione della rassegna musica classica al Goleto organizzata dal Rotary Club di Sant'Angelo dei Lombardi Irpini a Goleto. Un grande successo quello ottenuto dall'ouverture della sonora Junior Sax diretta dal maestro Domenico Luciano, affermata orchestra che si è esibita in rassegna di respiro internazionale ed ha anche vinto il Summa Cum Laude di Vienna, affermandosi su 25 orchestre provenienti da tutto il mondo. Un connubio tra musica classica e beni artistici, architettonici e culturali che ha prodotto finora un risultato davvero superlativo. Del Rotary di Sant'Angelo dei Lombardi cambiano insomma i presidenti ma non il successo della rassegna. Questa è una manifestazione che noi abbiamo, che la sentiamo, la sentiamo ormai nostra, è una manifestazione che è iniziata nel primo anno con il dottore Rossi, adesso è proseguita con l'avvocato Massimo, adesso ci sono io e credo che questa sarà altrettanto bella, sarà una manifestazione eccezionale. Stasera abbiamo i ragazzi della sonora Junior Sax che hanno vinto un premio a Vienna nei primi giorni di luglio e sono fantastici. Il sabato prossimo avremo l'orchestra, la nuova orchestra Scarlatti e così via avremo i professori del Cimarosa e chiuderemo questa manifestazione con un'orchestra, la Kharkov dell'Ucraina. Quindi una manifestazione veramente, un cartellone degno di rispetto nella tradizione dei Rotariani. Ed è stato proprio il neoeletto presidente Voglino a sottolineare la ricchezza ed il peso di un cartellone di eccezionale spessore nel rispetto della tradizione dei Rotariani che già pensano alla prossima iniziativa. Dopo questa cosa noi faremo intanto il progetto Noictus del nostro governatore di Donato. Il Noictus faremo quindi delle domeniche delle salute e faremo degli ecodoppler e degli elettrocardiogramma. Facciamo prevenzione per questa malattia.